Diamanti, sempre Dren dentro, mette fuori bacca anticipando Donnarumma, poi la sforbiciata e il gol incredibile di Piniglia! Un euro-goal! 1-1 Atalanta! La magia di Piniglia, lo specialista delle sforbiciate! Quinto gol stagionale del numero 51 Neroazzurro, dopo i due gol al Sassuolo, quello al Carpi e alla Fiorentina, c'è anche il Milan fra le sue vittime di questa stagione! L'Atalanta che riesce ad acciuffare il pari dopo l'occasione di Gomez in precedenza, bacca che anticipa Donnarumma, poi la coordinazione perfetta di Piniglia, una meraviglia, nulla può Donnarumma, 1 pari!